Ciao sono il dottor Max. Benvenuto nella sezione della lista completa delle farmacie in Italia. In questa guida ti fornirò un elenco dettagliato di tutte le farmacie presenti sul territorio italiano. Nella lista troverai i nomi delle farmacie, i loro indirizzi completi, i numeri di telefono e codice della farmacia. Al fine di aiutarti a trovare facilmente la farmacia più vicina a te. In questo video nello specifico ti elenco le farmacie che si trovano a Falconara Marittima in provincia di Ancona nelle Marche. Farmacia Bonfili del dottor Mannucci Riccardo via P. Mauri, 6, località. Castelferretti, telefono 071-9161766. Codice 8856. Farmacia Gallatello di Gallatello, Adamo, Luigi e Company. SAS via Flaminia, 526. Telefono 071-910188. Codice 8852. Farmacia internazionale SNC di Enrico Franchini e C. via G. Marconi, 72. Telefono 071-9164618. 8. Codice 16956. Farmacia Mannucci dottor Francesco via Galileo Galilei, 2. Telefono 071-9172566. Codice 8853. Farmacia Pelliccioni SNC via Nino Bixio, 136. Telefono 071-5907269. Codice 8854. Farmacia Ville dottor Benigni Luigi via Puglie, 8. Codice 8851. A Falconara Marittima non ci sono altre farmacie da segnalare in questo momento. Sappiamo quanto sia importante avere accesso a farmaci e prodotti sanitari di qualità, soprattutto in momenti di necessità o emergenza. Ti invitiamo a utilizzare questa lista come punto di partenza per individuare la farmacia più comoda per le tue esigenze personali. Ti ricordo che la lista delle farmacie presenti in questa guida è basata sui dati disponibili al momento della sua pubblicazione, pertanto ti consiglio di verificare sempre gli orari di apertura e le eventuali variazioni contattando direttamente la farmacia di tuo interesse. Il dottor Max e il suo team sperano che questa lista sia di grande utilità per te e ti augurano un accesso rapido e sicuro a tutti i servizi farmaceutici di cui hai bisogno. La tua salute è importante e siamo qui per aiutarti a prendertene cura. Questo canale potrà esserti utile in futuro, ti consiglio di iscriverti, grazie ancora per l'attenzione, buon proseguimento. Grazie a tutti.